dalle molle siamo al garden sono con loris capineri a vedere un pochino questa silvia dalle molle che ha vinto il torneo weekend under 9 cosa ne pensi loris è molto brava tecnicamente parla parlo tecnicamente perché muove bene le gambe si cerca specialmente sul diritto la palla sempre più avanti del corpo e adesso vediamo un rallenti del rovescio che lo ha giocato in tutti i modi per esempio che sta attaccato alta attaccato alta perché però non riesce a portare la spalla eccola questa è una bella esecuzione invece del dritto il dritto anche se altro lo trova sempre giusto silvia dalle molle andiamo a chiudere questo video dedicato a lei analizzando un pochettino il rovescio vediamolo loris bene il dritto vediamo come c'è non lascia piega un po il gomito vuol dire che non la portano avanti la spalla adesso è molto meglio si adatta bene brava silvia